Amici ci ascoltano, i nostri smartphone ci ascoltano. Quante volte vi è capitato di dire qualcosa e il giorno dopo vederlo come pubblicità? Come funziona questa cosa? Di chi è colpa? Facebook ci ascolta? Sarà Google? Sarà Apple? Sarà il mondo Android? Chi ci ascolta? Funziona così. Quando noi scarichiamo delle piccole applicazioni che per esempio ci permettono di vedere il tempo, il clima, il traffico, qualsiasi cosa, di solito sono gratuite e come sopravvivono? Spesso sopravvivono così, attivano il microfono, ovviamente se andiamo a vedere nelle impostazioni troviamo il microfono attivo, ascoltano quello che diciamo, lo traducono, finisce su internet nel senso in zone private, lo traducono in testo, sapete quante volte abbiamo parlato e lo smartphone ha trascritto, quindi ci sono sistemi perfettamente in grado di trasformare tutto quello che diciamo in testo, dopodiché vengono rivenduti questi testi che alla fine contengono le nostre intenzioni di acquisto, di scelte di vita, vengono vendute dentro dei grandi marketplace, cioè dei luoghi dove c'è uno scambio di queste informazioni degli utenti e vengono ricomprati anche dai grossi player, ecco perché quando andiamo magari in grosse piattaforme, eccetera, troviamo questi dati, anche se non sono loro direttamente ad ascoltarci, ma magari ricomprano da altri le nostre informazioni, come fare per difendersi da questo andare dentro le impostazioni del nostro smartphone e verificare nella privacy, nei settings, impostazioni, privacy, quali sono le applicazioni che ascoltano, perché tutta la nostra vita sta finendo online e facciamo molta attenzione.